Musica Buona scuola di montagna, il ministro in Molise, Stefania Giannini domani ad Iserni e Caruville incontrerà gli studenti, sarà l'occasione per lanciare le linee guida che la riforma prevede per le aree interne. Brasiello, lascio la politica, da Pologno devo riflettere, già domani l'amministrazione cittadina potrebbe essere commissariata, il sindaco decaduto pensa al ritiro, lo sfidante non ha ancora sciolto le riserve. No a Trivella in mare si concretizza referendum, sempre più probabile ricorsa ad una consultazione popolare contro le ricerche di petrolio in Adriatico, la protesta va avanti sulla rete. Campo Basso by Night convivi la tua città e migliaia all'evento organizzato dal comune e dalla Confesercenti, dopo il centro sarà coinvolta anche la periferia, hanno detto da Palazzo San Giorgio. Edizione della domenica del nostro telegiornale Bentrovati, c'è la scuola in apertura perché domani tornano in classe migliaia di studenti in tutta Italia, nel Molise la scuola è già iniziata, come è noto una notizia che non riguarda da vicino il Molise perché come è noto le lezioni appunto sono iniziate in settimana. Tuttavia il ministro dell'istruzione Stefania Giannini ha scelto proprio il Molise per lanciare alcune novità introdotte dalla riforma e domani mattina sarà ad Isernia. Sentiamo Giovanni Di Tota. Prima il liceo scientifico Majorana, poi la San Giovanni Bosco in occasione del bicentenario della nascita del sacerdote piemontese fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice. Stefania Giannini ha confermato la sua presenza domani a Isernia per lanciare alcuni indirizzi guida nell'ambito della riforma della buona scuola. Lo farà nel giorno in cui si torna in classe in 13 regioni anche se gli studenti molisani hanno già ripreso le lezioni da una settimana. Il ministro della pubblica istruzione dopo la tappa di Isernia, nella quale si fermerà con i ragazzi del liceo scientifico e con gli alunni dell'Istituto Comprensivo Don Bosco partirà per Carovilli. Proprio qui, in uno dei comuni dell'Alto Molise più interno, parlerà di alcune novità introdotte nella riforma scolastica che hanno come scopo quello di alleggerire i disagi di chi insegna o studia nelle scuole con sedi in zone di montagna. Un segnale importante per una regione e le aree interne in particolare che già affrontano difficoltà gigantesche in altri settori, primo fra tutti la sanità. Una grande visibilità per il Molise, ha commentato la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini, alla cui scuola viene data una ribalta nazionale così importante. L'arrivo in Molise di Stefania Giannini è previsto intorno alle 9.30 al Majorana, dopo il suo saluto agli studenti dalla trasmissione 1 mattina. Intorno alle 11 andrà alla Don Bosco e alle 13 a Carovilli, dove parlerà della riforma della buona scuola per le aree interne. Cambiamo argomento, primo incontro a Roma per evitare la chiusura della prefettura di Isernia. Dalino Leva, il parlamentare del PD, ne ha parlato già con il viceministro dell'Interno. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. La possibile chiusura della prefettura è solo l'ultimo atto di un'opera di smantellamento che lentamente sta spazzando via la provincia di Isernia. Più di qualcuno ha fatto notare che l'addio all'ufficio del governo comporterebbe anche il ridimensionamento della presenza delle forze dell'ordine e di altri uffici periferici, oltre a causare un ulteriore danno economico a un territorio che rischia seriamente la desertificazione. Ma le conseguenze non le pagherebbe solo Isernia. Presto o tardi lo stesso destino potrebbe toccare anche all'intero Molise, sempre più snobbato se non ritenuto inutile a Roma. Così proprio non va, dice il deputato del PD, Danilo Leva, pronto a battersi in difesa non solo della prefettura ma della stessa autonomia della regione. Lavoriamo nelle prossime ore, lavoreremo. Io ho già sentito anche il viceministro degli interni, c'è da capire, questo è un territorio che non può essere massacrato così. Non funziona altrimenti facciamo prima chiuderla la regione. Siccome non è questa la discussione, se si chiude la prefettura con la prefettura vengono via, c'è il rischio, anche questura, comando dei carabinieri. Noi abbiamo bisogno di un presidio dello Stato in un territorio tra l'altro anche di confine. Non lo dicono i dati purtroppo sulla legalità, sulla criminalità anche organizzata. Quindi non può finire così questa partita. C'è una notizia di taglio economico, un dato istat negativo per il Molise per quanto riguarda l'export. La regione perde nei primi sei mesi del 2015 il 3,3% rispetto allo scorso anno. Il dato assume valore preoccupante se si considera che le regioni del sud Italia nello stesso periodo hanno fatto registrare un incremento totale del 7%. In merito da registrare la posizione della CGL regionale, secondo cui il dato conferma che il Molise rischia molto sul piano economico, sociale e dell'arretramento strutturale. E adesso torniamo a parlare della situazione al comune di Isernia. Dopo la bocciatura del bilancio, già nelle prossime ore dovrebbe arrivare il commissario. Enzo Di Gaetano ha chiesto al rappresentante maggiore delle opposizioni da Polonio e al sindaco uscente a questo punto Brasiello le intenzioni per il futuro. Sentiamo. Traumatica la fine della mini-legislatura nata a Isernia nella primavera del 2013. Solo due anni e mezzo che sono serviti almeno a capire ancora di più l'inadeguatezza di larga parte della classe politica locale. Intanto la richiesta di commissariamento è già partita dalla prefettura di Isernia, diretta al Ministero degli Interni. La terza in soli quattro anni, dopo Vardè e dopo la Filippi, sarà certamente nominato un altro prefetto, chiamato a reggere le sorti del capologo Pentro, fino a maggio 2016, quando si voterà per il nuovo sindaco. Sarà una scelta, quella del commissario, che farà lo stesso ministro Alfano. Intanto ci si inderroga sulle cause politiche della crisi e ancora una volta si sottolinea che i tre voti mancanti, che sono stati determinanti per la caduta di Brasiello, sono stati quelli di tre consiglieri comunali del PD, che in un modo o nell'altro potrebbero essere collegati al duo Frattura-Fanelli. Infatti in Giunda c'erano solo due del PD, ma vicini a Ruta, Sposato e Amendola. Insomma, a Isernia ci sarebbe stato un siluramento del sindaco, ispirato dai fratturiani. Ma sarà davvero così? Sono interrogativi a cui non c'è ancora una risposta e forse non ci sarà mai. Magari indirettamente le risposte arriveranno al comune di Campobasso o alla stessa regione, dove la tensione è altissima in vista del rimpasto e dell'elezione del nuovo presidente del Consiglio. Ma torniamo a Brasiello e da Pollonio, i protagonisti dell'ultima sfida per Palazzo San Francesco, che chiariscono i loro dubbi e i loro propositi sul futuro immediato. Brasiello afferma che rinuncerà alla politica, tornando a fare il commerciante, ma langia un invito al commissario che verrà. Mi auguro che il commissario possa fare bene, mi auguro che il futuro sindaco possa in qualche modo risolvere tutti quei problemi che io non sono riuscito a risolvere, ma temo, ahimè, che le conseguenze saranno durissime anche dal punto di vista dei finanziamenti, perché chiaramente viene meno quell'input, quello stimolo politico che serve per avere queste cose. Che cosa succede ora alla provincia? Palazzo San Francesco arriva al commissario, alla provincia? Penso che c'è il vicepresidente che porta avanti l'amministrazione fino alla nomina del nuovo presidente, che viene però fatto tra il Consiglio già esistente. Quindi non esisterà più il rappresentante di Sernia ufficiale? No, perché... Decate sia lei che Sardelli. No, Sardelli rimane, decato io, perché ricordo che il presidente della provincia per essere tale deve essere sindaco, quindi deve essere il sindaco di un altro comune. Chi rimane come vicepresidente? È il vicepresidente Carrino. Napollonio è pronto per tornare di nuovo in politica oppure stacca la spina? Beh, questa domanda in questa sera sinceramente non me l'aspettavo. Non lo so, ci penserò domani, diceva qualcuno in un noto film. Adesso è un momento un po' di fare il punto della situazione, di raccogliere le idee e capire veramente che cosa si può fare. Ma secondo te il centrodestra ce la può fare a riconquistare Sernia? Ma io penso di sì, ma qui non è neanche una questione di centrodestra o centrosinistra, secondo me, io la vedo così. Ci vogliono programmi, persone e programmi seri per questa città. Cambiamo argomento, non si ferma la protesta della rete delle associazioni contro le trivelle nel mare Adriatico. Ora si fa più vicina anche la richiesta di un referendum necessario per cancellare le norme di legge che autorizzano nuovi progetti di ricerca. Roma, l'Assemblea dei Presidenti dei Consigli regionali ha infatti condiviso all'unanimità la strada della consultazione popolare. Fabrizio Occhionero. L'appello è stato sottoscritto da 200 associazioni e oltre 100 personalità del mondo accademico, delle scienze e della cultura. Un impegno convinto contro le trivelazioni ribadito dalla rete NoTrib in una conferenza tenuta nella Sala della Camera dei Deputati. Nella lettera rivolta a tutti i consigli regionali si chiede di restituire la parola al popolo sovrano per scongiurare il pericolo di nuove trivellazioni in mare al di sotto del limite delle 12 miglia marine. In sostanza, un referendum. I Presidenti dei Consigli regionali, ha spiegato il coordinamento, hanno deciso all'unanimità di accogliere la proposta NoTrib sull'abrogazione di alcune norme del decreto sviluppo, così come dello sblocca Italia relative alle estrazioni petrolifere. I quesiti elaborati dal professore Enzo Di Salvatore dovranno essere deliberati dai consigli regionali e depositati in Cassazione entro il 30 settembre. Franco Iacop, coordinatore della conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, ha evidenziato che l'unanimità condivisa nella decisione di predisporre i quesiti referendari, sottolinea come, a prescindere dall'essere direttamente toccati dal tema delle trivelazioni, tutte le regioni hanno voluto esprimersi in merito alla difesa dei territori e ha aggiunto anche al diritto di partecipare alle decisioni che riguardano la loro sostenibilità economica e sociale. Non a caso, ha concluso Iacop, sono pendenti presso la Corte Costituzionale più di una richiesta di impugnativa del decreto del Governo presentate da varie regioni. L'adessione all'iniziativa continua e la rete Notriv ha invitato tutti i sottoscrittori a tenere viva l'attenzione affinché sia rispettato il diritto dei cittadini di poter decidere sulle sorti dei propri territori e dei mari italiani. Qualche settimana fa ricorderete l'approvazione da parte del Governo dell'area di crisi per un'ampia zona del Molise. Sebbene a Frosolone si è discusso proprio delle opportunità offerte dalle misure previste e si è parlato anche della necessità di sistemare la superstrada Fresilia ridotta in condizioni pietose. Il riconoscimento dell'area di crisi nei distretti di Boiano, Isegni e Venafro può offrire buone opportunità anche a Frosolone. In ballo c'è la possibilità di rilanciare l'area della Fresilia attraverso la riattivazione del piano degli insediamenti produttivi. Di questo si è discusso durante un confronto con i vari rappresentanti istituzionali voluto dal Comune. Per il Sindaco Giovanni Cardegna si tratta indubbiamente di un'importante occasione da cogliere ma a patto che la Regione risistemi al più presto la Fresilia una strada che oggi versa in condizioni pietose senza la quale diventa inutile parlare di sviluppo. Questa strada è ferma, è in condizioni pietose abbiamo la necessità di collegare la Trignina alla Bifernina quindi chiediamo, come dire, sollecitiamo interventi immediati perché questa opera si possa realizzare perché ne va proprio del futuro economico di queste zone e del futuro del Molise perché credo che vanno soprattutto aiutate c'è un problema viario che va risolto se vogliamo rendere competitive le nostre aziende gli imprenditori ci stanno mettendo dell'oro anzi dobbiamo ringraziarli perché investono in queste zone in condizioni precarie Le infrastrutture rappresentano senza dubbio un punto di partenza ma per il primo cittadino occorre anche altro per rilanciare l'economia locale Se vogliamo rilanciare gli investimenti e rimettere l'economia in movimento occorre che da parte soprattutto del governo e da parte della regione ci siano sostegni veri ma quando dico sostegni penso alla politica fiscale penso alle infrastrutture quindi non solo alle risorse, agli aiuti ma a quello che è il contesto noi dobbiamo realizzare un contesto produttivo favorevole alle nostre aziende La pagina delle manifestazioni adesso a Campobasso ieri la seconda edizione di Vivi la tua città e di molti soprattutto in serata hanno affollato le vie del centro Dopo l'esperienza dello scorso anno Vivi la tua città si conferma come appuntamento da segnare nell'agenda della Campobasso di fine estate Organizzata quest'anno dal Comune e dalla Confesercenti Provinciale la manifestazione ha proposto eventi di carattere culturale sportivo, enogastronomico, musicale e sociale Per un commercio diverso non ci crediamo questo è lo slogan scelto dai promotori che hanno voluto lanciare un messaggio propositivo agli operatori commerciali e cittadini Abbiamo cercato quest'anno di allargare la sperimentazione quella del 27 settembre l'anno scorso della prima edizione abbiamo fatto confluire un po' di rilancio più che confluire, il rilancio del microcommercio anche su Via Cardarelli, Via Mazzini siamo arrivati fino al simbolo più alto di Campobasso che è Castelmonforte C'è tante euforie penso che si commenterà da solo penso che girerete per fare delle immagini e questo sarà il commento che va alla città accettiamo critiche se ci sono per migliorare le prossime edizioni che abbiamo intenzione di farle logicamente l'obiettivo di Battista e della sua maggioranza e della giunta è quello anche di riportare nelle zone dislocate da Campobasso quindi il progetto che noi abbiamo è di portare anche nelle contrade che fanno parte di Campobasso insieme al collega Marroncelli più volte ci siamo confrontati insieme al collega Danchise che sono i delegati di Santo Stefano e di Correndato Polise Feudo, Camposarconi dove anche lì ci deve essere un segnale Vivi la tua città 2015 ha proposto un programma ricco con appuntamenti dal pomeriggio fino a notte fonda così nel pomeriggio di ieri alcuni studenti delle scuole superiori di Campobasso con i ragazzi del progetto Sprar in collaborazione con l'assessorato all'urbanistica e l'assessorato alle politiche sociali hanno ripulito muri imbrattati da scritte poco dopo le 18 l'inaugurazione ufficiale della manifestazione nell'atrio di Palazzo San Giorgio con il sindaco di Campobasso Battista l'assessore alle attività produttive con la Giovanni l'attore Giorgio Careccia poi il centro cittadino si è popolato la pallavola e il rugby protagonisti in Viale Elena mentre in Villa Musenga spazio per il divertimento dei più piccoli con le ludoteche e il baby park in piazza Pepe l'esibizione di alcune scuole di ballo cittadine in corso Vittorio Emanuele la sfilata dei costumi tradizionali a cura dell'associazione La Mantigliana poi gli spettacoli itineranti della polifonica Monforte e The Clown in piazza San Leonardo la sfilata di moda a cura di Roberta Enzing in Fontaco della Farina degustazione dei prodotti tipici a cura dell'associazione I Ristorici diversi anche i palchi allestiti nelle vie del centro dove si sono alternati in successione band musicali con la musica live protagonista a mezzasera sul palco allestito in piazza Municipio la premazione del contest fotografico di Vivi la tua città 2015 al concorso ideato in occasione del ricco cartellone di eventi hanno preso parte numerosi ragazzi tra i 15 e i 18 anni ed ancora a mezzanotte il sindaco Battista sul palco di piazza della Vittoria ha premiato Carmine Brasiliano primo classificato nel concorso fotografico dal tema Campobasso città della pace poi fino a notte fonda la festa è proseguita all'insegna del divertimento con un particolare ringraziamento io voglio con l'occasione ringraziare gli operatori del commercio e dell'artigianato locale di Campobasso che si sono voluti mettere in discussione che hanno voluto presentare mostrare i propri prodotti è un modo anche questo oltre a valorizzare la città valorizzare la capacità imprenditoriale dei nostri piccoli o grandi produttori piccoli o grandi operatori del commercio Sant'Elia Pianesi ha ricordato la notte del brigante salvato da padre Raffaele in occasione della quinta edizione del Borgo Rivive sentiamo Anna Maria Di Matteo Il brigantaggio a Sant'Elia Pianesi resta una pagina inquietante di storia locale segnata dalla figura di padre Raffaele Petruccelli il monaco santo Lui molte volte è stato chiamato quando stava a Campobasso al letto dei carcerati che morivano e anche qualche condannato con il suo alone di santità riusciva a dare speranza a chi ormai speranza non ne aveva più con la sua parola e diciamo il suo atteggiamento paterno che traspirava spiritualità e il senso di Dio insomma ecco per la quinta edizione del Borgo Rivive la Proloco Planisina patrocinata dall'assessorato regionale all'agricoltura ha proposto una rivisitazione storica degli episodi del brigantaggio eventi e storie che ha voluto rappresentare e far conoscere soprattutto i più giovani questa iniziativa che abbiamo voluto riproporre quest'anno a differenza delle altre edizioni nel mese di settembre è scaturita da una serie di motivazioni e di circostanze prima di tutto ci prepariamo appunto in relazione alla figura di padre Raffaele ad aprire questo bicentenario della sua nascita e poi insomma vogliamo rievocare questi eventi storici attraverso uno spaccato abbastanza fedele di quello che insomma era il fenomeno del brigantaggio proprio per pensare in prospettiva a qualche progetto futuro che sia legato alla rivalutazione del nostro territorio il coinvolgimento dei giovani ci sembra una cosa molto importante anche perché in questa maniera riusciamo a fargli riscoprire quello che è il nostro passato il nostro retaggio storico-culturale fulcro della manifestazione il convegno che si è svolto nel convento dei frati Cappuccini a quale hanno partecipato esperti professori e rappresentanti istituzionali tra gli altri Pino Aprile questa parte degli italiani ovvero il sud d'Italia ha letteralmente pagato l'unità d'Italia e le nuove generazioni hanno un privilegio che a noi è stato negato sapere come questo è avvenuto a noi invece spiegavano che se le cose stavano così è perché noi eravamo più ignoranti più scemi trogluditi eravamo la vergogna d'Italia eccetera eccetera però forse sarebbe stato più giusto che un paese nelle sue scuole raccontasse alla sua gente come è nato simbolica la deposizione dei fiori ai piedi della statua di padre Raffaele e in seguito la manifestazione si è conclusa con degustazioni tipiche nelle taverne allestite nel centro storico del paese ed è tutto per questa edizione della domenica del nostro telegiornale grazie a voi come sempre per aver scelto l'informazione di Telemulisi arrivederci grazie a tutti